Allora, prima di cominciare questo video permetto una cosa Questo video è solo a scopo ironico quindi non voglio insultare i commenti se no vi banno Servi cari amici, benvenuti e bentornati al mio pazzissimo canale Oggi amici vi faccio vedere i titoli di alcuni anime che ho inventato con il computer Allora, il primo titolo che ho inventato è Oli e Benji che schifo Perché praticamente ci sono moltissimi errori, molti di più, molti errori di più di quello che pensavo su questo cartone Sia di doppiaggio sia del disegno Poi la prossima è Mairo Merdemia Perché? Perché ci sono molti scene non adatte per un anime, per ragazzi Quindi l'ho chiamato così, anche se dovevo metterci un altro nome Ma siccome non ce l'ho messo perché il YouTube se no mi butta fuori il video non l'ho messo Poi metto Inazuma Eleven Go Merda Perché ho messo Inazuma Eleven Go Merda? Perché questo qui è la stessa copia della prima trilogia di Inazuma Eleven, quella originale E quindi sono una copia, quindi si merita questo nome Ultimo titolo è Dragon Ball Super Trash Una spazzatura, una brutta copia di Dragon Ball Z Senza parole, amici, sono veramente scioccato Spero che questo video ironico vi sia piaciuto Nel caso lasciate like e iscrivetevi al canale Il mio telegram è EnzoGamer827-Enzo19 Invece ora mi trovate anche su TikTok e me Ma siccome comincio Gamer9Z Io detto questo vi saluto